Amici di Direttasporto, Un cordiale buon pomeriggio, siamo a Tiesi, Sala Sassu, qua inizia un grande progetto di inclusione sociale legato al mondo dello sport, un momento molto importante anche per il brand di Direttasporto, un progetto che nasce dalla grande intesa che è nata tra diversi soggetti coinvolti. Saluto e ringrazio il padrone di casa, il vice sindaco del comune di Tiesi, Salvatore Tanca, saluto Antonio Cano, presidente delle Aquile in Sicurezza, associazione con la quale è nato un grande feeling e con la quale porteremo avanti questo progetto. Saluto Rossella Soriga, tecnico alla quale è stata affidata questa bella avventura e saluto anche Nicola Uned, uno che davvero ha dato tanto nella costruzione di questo progetto. Parliamo di football integrato, lo abbiamo raccontato per tanti mesi, lo ricorderete, in primavera, in giro per l'Italia. Qui è nato qualcosa di importante per quanto riguarda un po' tutti noi, qualcosa che nasce dove? Nasce a Tiesi, nella palestra delle scuole elementari. Invito subito il vice sindaco a raccontarci che cosa accadrà praticamente a partire da mercoledì prossimo. Un saluto a tutti, non solo da parte mia, da parte dell'intera amministrazione comunale che oggi rappresento e che ha il grande piacere di ospitare questo grande evento. Un evento che abbiamo accolto subito a braccia aperte per l'importanza e per la valenza sociale che ha e che è nato, racconto un po' quali sono proprio le radici di quello che poi ci ha portato ad essere qui oggi. E' nato grazie al fatto che il nostro caro amico Nicola Unedo, che è anche il bibliotecario comunale, faceva già parte di una squadra di football integrato, di cui poi ci parleranno sicuramente in seguito Rossello e Antonio, che aveva sede ad Alghero. e Nicola ha voluto un pochettino sperimentare se anche a Tiesi ci fosse l'interesse, se ci fossero i numeri per poter costituire una squadra di football integrato. Mi ha raccontato un po' di cosa si trattava e devo dire che sono rimasto veramente affascinato dall'idea che il gioco del calcio, che è forse il gioco più amato in Italia sicuramente, potesse subire delle modifiche nelle sue regole a tal punto da poter consentire a tutti di poter giocare. Quindi il football integrato non è altro che il calcio con delle regole particolari che consentono a tutti di poter giocare. Così abbiamo organizzato una piccola partita, un amichevole in modo informale, anche con la mia squadra di calcio a 11, Santo Giovanni e Calcio, abbiamo invitato tutti i ragazzi del tralcio che si sono mostrati interessati e anche Antonio Cano, mi ricordo il giorno, rimase illuminato da questo esperimento. Si capì che c'erano i presupposti per costituire una squadra anche qui a Tiesi, e oggi ci troviamo qui a presentare questo progetto che poi come dirà Antonio non ci racconta solo di football integrato, ma anche di tante altre attività che sono legate alla nuova associazione di nuova costituzione. Posso dire cosa ha fatto l'amministrazione per favorire la nascita di questa attività? Abbiamo innanzitutto cercato di trovare uno spazio adatto, cioè quello della palestra delle scuole elementari, qua a fianco, che era già sovraffollata, perché devo dire che uno dei problemi, se così si possono definire, più grossi che mi riguardano come assessore allo sport è quello di non riuscire spesso a trovare spazi per le tante attività sportive che ci sono qua a Tiesi. Quindi è un bel problema, auguro a tutti gli assessori allo sport di avere questo problema, vuol dire che il paese sportivamente è vivo. Anche grazie quindi alle società che già utilizzavano quegli spazi, che hanno ceduto quelli che tra virgolette erano i loro spazi, abbiamo trovato delle ore il mercoledì che ci consentono quindi di iniziare questa attività. La giunta comunale lunedì approverà una delibera, mediante la quale si costituirà ufficialmente partner del progetto e metteremo a disposizione anche una piccola cifra che servirà per l'acquisto delle porte smontabili, che sono quelle che poi servono per praticare questo sport particolare. Grazie Vice Sindaco. Allora, vado dal particolare al generale. L'amministrazione, come detto, è una protagonista fondamentale in questo progetto perché apre le sue porte, lo fa in maniera gratuitamente, delle palestre comunali. Il brand è diretto a sport, un'avventura che è iniziata nel marzo dell'anno scorso, abbiamo raccontato in giro per l'Italia al football integrato, una invenzione in maniera assoluta che davvero garantisce la totale inclusione del mondo della disabilità nel mondo dello sport, lo fa mantenendo accesa la fiammella dell'agonismo. Noi siamo stati assolutamente fulminati da questo sport, ci ha appassionato. Allora è nata l'occasione, grazie alle acule in sicurezza, associazione di tiesi, passerò subito la parola ad Antonio Cano perché ha tanto da raccontare. E' nata l'occasione per cosa? Per creare la prima squadra di diretta a sport, farle vestire maglietta e pantaloncini e farla scendere in campo per esprimere in quella che è l'attività istituzionale della nostra associazione con tutto il proprio essere. Un progetto che è reso possibile ovviamente grazie alla collaborazione con le acule in sicurezza, un'associazione che già esisteva ad Alghero, che si è trasferita qui a tiesi e poi qua che cosa è successo Antonio? Buonasera a tutti. Anzitutto, prima di addentrarmi nella descrizione, non voglio nascondere la commozione. La commozione è di vedere realizzato un sogno che diversi mesi fa, aprile e maggio dello scorso anno, con 7-8 persone, dopo l'invito di Nicola, abbiamo detto proviamo, forse è qualcosa che può rispondere anche a noi. Avevo paura di muovermi da solo su questa cosa, quindi ho chiesto a degli amici del Tralcio se c'era qualcuno disposto a giocarsi in questa avventura. E abbiamo provato. Quindi è un grazie a quelle persone che hanno dato il coraggio e la forza per poter partire. Il grazie va soprattutto ai ragazzi. Maria, Elisabetta, Totto, Mario, Piergianni, Denny, Santonello, Giuseppe, mi sembra che ci sia dietro, e a tutti i volontari che hanno accettato di condividere con noi questo cammino. Poi ci sono gli altri amici di Alghero, non riconosco i nomi, ma vi vorrei nominare ciascuno personalmente, se fosse possibile. Magari i nomi mi li dici tu? Anna-Lisa, Monica, Melvia e Angelino. Gli facciamo un applauso? Il grazie continua con l'amministrazione. È veramente una gioia vedere l'amministrazione che ci ha aperto le porte e ha dimostrato non solo attenzione, ma sensibilità. non è facile oggi avere persone sensibili verso il problema della disabilità, perché ancora ci sono molte barriere da superare e da scavalcare per riuscire a guardare in faccia le persone disabili e sentirle persone, non oggetti che dobbiamo trattare a seconda della diversità, a seconda delle situazioni nelle quali ci poniamo. Quindi questa nostra avventura è nata proprio col desiderio di includere, quindi di metterci insieme, tutti. Io faccio difficoltà a parlare di normodottati e disabili. Siamo tutti persone. Camminiamo insieme verso delle mette da raggiungere. Grazie a Rossella, grazie a Nicola, grazie alla calcio femminile che si stanno condividendo queste, grazie a Diretta Sport, che ci ha dato la possibilità proprio di avere braccia e gambe per poter camminare, perché lo diciamo onestamente, ci sostiene anche economicamente in questo momento. Noi purtroppo abbiamo molto coraggio, abbiamo molta fantasia, ma pochi soldi, quindi grazie al sostegno che ci date. Che cos'è Aquile in sicurezza? Molti si sono meravigliati di questo nome qui a Tiesi, vedendolo, sentendolo, mi chiedono tutti, ma perché questo nome? Io ho provato a chiederlo ai primi fondatori e io l'ho capito in questi termini. Siccome è nato con le prime difficoltà difficoltà legate al CIM, a problemi delle malattie psichiche, eccetera, ho pensato che fossero persone un pochino spaurite da quello che la vita poteva prospettare loro, che se messe in un ambiente protetto e aiutato potessero volare con maggior facilità. Quindi messe in sicurezza possono esprimere tutto quello che possono avere dentro. Io l'ho interpretato in questi termini. e siamo contenti di poter volare insieme a queste Aquile. L'associazione è nata nel 2007, è stata riconosciuta poi ufficialmente dalla Regione Sardegna nel 2008 e ad Alghero ha camminato per parecchi anni finché non si sono presentate difficoltà forse insormontabili, forse non determinate dal volere delle persone, però hanno avuto un coraggio grandissimo queste persone di dire che noi in questo momento non riusciamo più a seguire le Aquile in volo. C'è qualcuno che ci può dare una mano? C'è qualcuno che vuole prendere questo nido e provare a custodirlo nuovamente per dare questo riparo e questa sicurezza alle Aquile. Quindi quando ho capito che qui a Tiesi poteva esserci la possibilità, ho sentito i primi soci fondatori, hanno assicurato che nell'impostazione della società non c'era solo qualcosa di sport, ma anche qualcosa di culturale, di ricreativo, di sociale, a più pastoraggio. Ho detto bene, io ci sto, proviamola questa cosa e quindi grazie a tutti quelli che ci sono stati abbiamo ufficializzato a Tiesi questa... Siamo ancora in fase di rodaggio con la Regione per avere tutti i riconoscimenti, ma questi arriveranno. Che cosa vorremmo fare? Abbiamo diversi sogni, uno si sta realizzando oggi, qualcuno si realizzerà fra qualche settimana con la danza sportiva perché molti ragazzi hanno scoperto grazie alla collaborazione con la Scuola Civica di Musica che c'è la possibilità anche di esprimersi con la danza paralimpica, con la danza... come si chiama? La danza... mi sfugge la parola in questo momento... la dance therapy, scusate, la danza terapia, cioè che può aiutare queste persone a esprimersi. e l'abbiamo visto con grande padronanza anche al loro modo, con i modi con cui loro possono esprimersi. Vedere anche qualcuno in carrozzina che può ballare dà un entusiasmo grandissimo. Quindi non sono solo le gambe, ma è la mente che corre e che balla. Stiamo studiando delle possibilità di trekking adattato ai percorsi per disabili e stiamo studiando la possibilità di teatro per soggetti svantaggiati, non solo disabili, ma insieme a tutti gli altri. Quindi ci sono tante cose, non so quali riusciremo a realizzare, ma quello che stiamo già vivendo stasera è qualcosa di grande, qualcosa di insperato già dall'anno scorso. Quest'anno c'è e ci siamo tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie Antonio Canu, Presidente Aquile in sicurezza. Non l'ho detto, il football integrato nasce da un'avventura targata Xennazionale, un'avventura che noi abbiamo avuto modo di raccontare in giro per l'Italia, grazie all'assist dell'Xenna regionale. Ringraziamo il Presidente Francesco Corgiolo, con quale c'è un rapporto di assoluta stima reciproca. Nicola Uneddu, il sogno si avvera. A Tiesi sei riuscito a portare la tua squadra di football integrato dopo che quella bandiera di Tiesi della Sardegna è andata in giro per l'Italia? Ti ringrazio l'intervento. La prima cosa che voglio dire è rispetto e condivisione. Rispetto per noi tutti e condivisione perché abbiamo girato tutta l'Italia. Le tappe sono state eventi con le regioni. Abbiamo festeggiato dappertutto, non solo per lo sport. Abbiamo condiviso enormemente. Io devo ringraziare in prima persona Rossella perché si è coinvolto a questo progetto nel lontano 2017 e c'era qualcuno di noi, Tito Banta, ma è come? Vedi, giochi naturalmente. L'esempio è Mario, ma cosa devo fare qua? Abbiamo giocato la buonanima di Giuseppe Trovatto, si chiamava, davvero lo sai, del coso. Ci ha segnato di più, ci ha segnato la vita che io voglio condividere nel mio territorio, grazie a Salvatore e in tutto il Milugo, possibilmente. Questo è tutto. Sono orgoglioso di far parte di questa società in questo momento. e grazie a tutti quanti, partendo dai primi dirigenti, i fondatori e gli altri. Grazie Nicola. Allora, noi raccontiamo 34 discipline sportive, una di queste è il football integrato e sia chiaro, noi raccontiamo sport e raccontiamo sport in maniera agonistica perché è una strategia di successo per portare il football integrato là dove deve meritatamente stare e certamente quello di raccontare anche il sapore agonistico. Per questo abbiamo deciso di chiamare in causa una vincente per eccellenza, scudettata con la maglia della Torres, Rossella Soriga, che ci ha accompagnato nel percorso in giro per l'Italia e che sarà il tecnico della squadra di Direkta Sport. Buonasera a tutti. Io ringrazio Mauro per avermi scelta. è stata veramente un'avventura, credo, per tutti indelebile, rimarrà indelebile nelle nostre menti la carovana del football integrato appunto in giro per l'Italia. In ogni palazzetto che siamo andati a giocare questo era pieno e gremito in ogni ordine di posto. La cosa bella era vedere la gioia, l'entusiasmo, la condivisione di tutti indistintamente gli atleti che hanno fatto parte e sono uscisi in campo per dimostrare a tutti quelli, a tutti gli spettatori che venivano a vedere gli incontri vi dico e sottolineo palestre piene in ogni ordine di posto bellissimo da vedere insomma. loro portando a conoscenza questa nuova disciplina che come è stato detto non è altro che una partita di calcio a cinque anziché giocata in due porte su quattro porte con regole che non sto qui a spiegarvi perché insomma perderemo tanto tempo e magari vi annoio anche però vi prego e vi consiglio di venire a vederci durante gli allenamenti e soprattutto in previsione del campionato insomma che sarà prossimo ad iniziare che dire allenare loro, allenarci insieme condividere vedere quanto si riesce a dare e da ricevere soprattutto con un apprendimento immediato io vi dicevo sto qui a spiegarvi le regole ma spiegati a loro messe sul campo si gioca come se si giocassi una vita bellissimi da vedere molto attenti e tanto e hanno tanto avete tanto tanto da da dare e apprendete immediatamente date tanto a me personalmente proprio come dicevo e come ho detto durante la carovana sì ho vinto Scudetti ho vinto Coppa Italia però questa è una vittoria diversa una vittoria che mi arricchisce dentro che mi ha dato e continuo a darmi tanto io faccio parte di questa associazione parlo delle Aquile da quando è nata dal 2007 quindi ho vissuto momenti di gioia anche di dolore perché comunque tra virgolette si perde una partita l'agonismo c'è quindi insomma un po' ci si rimane male però parlando capendo dove si è sbagliato insomma dagli errori poi si riparte questo che si è sempre fatto che dirvi mercoledì iniziamo gli allenamenti o forse anche dopo perché magari in un'oretta riusciamo a fare i cosiddetti test per capire qual è la vostra posizione in campo qual è il vostro ruolo che con il quale giocherete e per fare questo dobbiamo capire quali sono le vostre capacità capacità motori capacità tecniche e così via e questo lo capiamo appunto facendo un test credo che lo faremo dopo iniziamo già da oggi a vedervi sul campo anche se io comunque vi ho già visto perché è stata proprio qui un'occasione che abbiamo avuto con le ragazze con l'alghero calcio femminile siamo venuti a tiesi per fare un torneo e abbiamo pensato di inaugurare il torneo facendo una partita di football integrato voi siete stati veramente bravi a partecipare abbiamo fatto delle squadre miste quindi le ragazze hanno collaborato insieme a voi cosa che con le aquile c'è sempre stata una sorta di collaborazione di gemellaggio e questo appunto ci ha permesso e ha permesso a Monica e a Milve e a me di essere qui oggi tra le altre cose e quindi niente è un grosso in moca al lupo e viva il lupo come dico io assolutamente Antonio a te no poco fa nella forma del discorso ho detto che all'inizio eravamo 7-8 che sono partiti con entusiasmo vorrei darvi la comunicazione che ieri mi sembra abbiamo raggiunto il numero di 40 40 associati giusto acqua di insicurezza non ovviamente tutte legate al mondo del futbol integrato ma tutto quello che viene fatto allora io direi che i contorni sono dunque abbastanza chiari al mio fianco ci sono i due soggetti che hanno il compito di raccogliere i numeri più alti possibili entrando nelle case cercando di tirar fuori coloro che sono chiusi nelle camere e che magari sono davanti alla tv con lo smartphone al computer devono uscire di casa voi li andate anche a prendere se non sbaglio e li portate in palestra all'amministrazione il compito di offrire strutture il più possibile adatte noi promettiamo di investire quanto più possibile perché con orgoglio non c'è miglior investimento che quello che caratterizza questo mondo delle 34 discipline sportive fatemi dire che sono certamente i soldi investiti in maniera migliore Rossella il compito di rendere competitiva la squadra perché ci sarà un campionato regionale di futbol integrato che noi racconteremo lo faremo con le classifiche con le solite nostre clip riassuntive con le interviste ai protagonisti interviste ai protagonisti a proposito che potrete io direi conoscere quasi da subito perché sui nostri canali andremo a intervistare e a conoscere i componenti della squadra di futbol integrato di Directa Sport ringrazio le acule in sicurezza ringrazio l'amministrazione del comune di Tiesi Nicolò Nedu che è già caldissimo e Rossella ci alzeremo tutti e andremo in palestra a scuola elementare per il primo allenamento grazie a te primo allenamento del futbol integrato qua a Tiesi buon pomeriggio Directa Sport le tue partite in diretta streaming Directa Sport è la nuova Web TV Sarda dedicata agli eventi sportivi regionali calcio basket volley atletica leggera e danza sportiva con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport at gmail.com con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni